Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Valenza, questo è il Duomo dove abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo per la Santa Messa per festiva delle ore 18.30 A presto! Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a fare un'altra parte per non starmi la merita, tanto per fare qualcosa che ti facciamo inizio e non paranniamo, andiamo una passaggio, giro, via Sì, sì, no... Sì, sì, no... 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 Sì, no...